allora forse posso annunciare che finalmente mollo gli occhi del cuore ma che mollo gli occhi del cuore? ma tu sei scimunito ma non capisci? lo conte cattivo è il tuo cavallo di battaglia la gente ti conosce perché fa lo conte cattivo se io dico che tengo a Mariano Giusto ma che? nessuno ti sa io sa chi lo fa lo conte cattivo ah lo conte cattivo, non capisci adesso? ecco il conte cattivo, oh padre io mi sarei anche rotto, posso dire cazzo dice quello che vuoi ecco mi sono rotto il cazzo, mi sono rotto il cazzo quando tre anni fa mi hanno offerto questo ruolo mi hanno detto vedrai che sto conte si trasforma sto conte prima è buono poi diventa cattivo poi diventa buono sto conte di qua, sto conte di là invece sto conte è sto cazzo lo posso dire padre, sto cazzo mamma mia madre, ho niente per te anche posso chiedere questo, posso dice quello dici, dici, vai, dici quello che ti fa no padre scusi mi sono innervosito vogliamo pregare adesso con la gioia no, no scusi, scusi tu chiedi a me se non voglio di pregare no, neanche un padre nostro, ok? il padre nostro, di cosa si tratta? grazie a tutti Grazie a tutti.